buongiorno ben ritrovati a un nuovo face to face oggi con noi c'è stefano grassi di affida come dire un appuntamento ricorrente con stefano buongiorno buongiorno flavio buongiorno a tutti stefano ti utilizziamo come spesso capita per fare un po il punto della situazione sul contesto generale non solo sulla attività ehm l'argomento che non possiamo non trattare oggi è eh la l'aumento dei tassi insomma siamo passati da eh un aumento dell'Euribor che è passato da non meno zero ventiquattro nel eh giugno duemilaventidue fino ad arrivare oggi a oltre due punti e sessanta ehm diciamo quasi tre punti percentuali in più quindi eh sul tasso base eh si fanno ben sentire poi sul tasso del mutuo finale e così anche eh sull'IRS che è passato invece da uno zero trentotto a gennaio ventidue fino a a sfiorare i tre punti eh a febbraio di quest'anno eh che forse anche in questo caso anche eh peggio perché insomma sappiamo che eh il tasso fisso è un un tasso che a cui si rivolgono normalmente eh persone che non hanno fluttuazioni di redditi no? Quindi non hanno speranza di incrementare il reddito nel breve eh e quindi anche in quel caso è un impegno finanziario che ci si porta avanti eh per tanto tempo. dal tuo punto di vista ecco com'è la la situazione quanto sta influendo eh su in generale sul mercato e quanto sulla mediazione che inizia in particolare. Grazie grazie Flavio. Beh allora la situazione sicuramente non è come dire eh tanto bella quanto potesse essere un anno fa no? Perché un anno fa di questi tempi il il tasso BCE era zero e lo era dal dal 2016 quindi venivamo da anni dove c'eravamo abituati troppo bene evidentemente e e l'Euribor come ci ha ricordato era addirittura negativo e e l'IRS aveva comunque lo zero davanti alla virgola. quindi sicuramente la situazione se la raffrontiamo a quella di di qualche mese fa anche senza andare troppo indietro nel tempo ehm sicuramente non è non è non è non è bellissima insomma il mercato ne sta risentendo no? Quindi eh anche i dati che 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 stanno uscendo eh sui primi mesi dell'anno eh 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 riflettono chiaramente un contraccolpo no? Quindi c'è un segno meno davanti. Questo come dire è un punto di partenza e ce lo dobbiamo dire. Poi dopo dobbiamo anche dirci in tutta onestà e trasparenza che forse i tassi sono più normali adesso che non eh un anno fa perché come ho detto prima noi ci eravamo abituati un po' un po' male no? Sembrava che quella fosse diventata la nuova situazione ordinaria quella di tassi zero ma eh come dire in un'economia ordinaria in un'economia normale i tassi non sono a zero eh quindi io io faccio questo lavoro da ventisei anni e e ho iniziato nel nel novanto a fine fine novantotto novantanove eh quindi un secolo fa e e i tassi erano più alti di adesso ma anche eh nel anche parecchio più alti anche nel periodo ehm diciamo migliore dal punto di vista del mercato immobiliare no? Ci ricorderemo tutti gli anni gli anni del boom gli anni d'oro almeno ma da quando io faccio faccio questo mestiere sto parlando degli anni a cavallo dal 2006 e 2007 prima della della crisi dei subprime fallimento di Lehman Brothers delle grandi banche americane e compagnia che poi è arrivato eh in in un anno secondo anche in Europa arrivò in un anno secondo anche in Europa in quegli anni lì poco prima di quell'evento eh il mercato immobiliare eh segnò quasi le 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 novecentomila ottocentocinquantamila compravendite che è stato il record assoluto e il mercato dei mutui chiaramente a ruota eh raggiunse i suoi massimi storici e e l'Euribor sono andato a rivederlo eh in questi in questi mesi e più spesso diciamo anche utilizzato queste argomentazioni sia negli incontri con la nostra rete ma anche in in occasioni voglio dire pubbliche no dove c'è stato modo di parlare di ricordare queste situazioni ehm l'Euribor e l'Euril si erano più alti di adesso eppure erano anni nei quali si vendevano un sacco di case e si facevano tanti mutui quindi partiamo da qui la situazione eh eh non è quella che 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 potremmo desiderare perché veniamo da una situazione eh molto molto proficua diciamo da un punto di vista di 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 comfort ecco ehm però realisticamente i tassi oggi non sono anormali o anomali ok detto ciò eh cos'è che che sappiamo bene che poi incide di più nei mercati non è non è non è non sono neanche tanto i valori assoluti nel breve quanto la percezione e il fatto che l'incremento dei tassi sia stato così concentrato in poco tempo eh quindi con con interventi delle banche centrali della BCE in pochissimi mesi che hanno portato da zero a tre il tasso e di conseguenza poi i i mercati addirittura avevano anche già anticipato no questi questi eventi come fanno sempre i mercati che poi le dichiarazioni della Lagarde erano erano state abbastanza come dire predittive e e e questo sicuramente ha comportato una percezione di tassi altissimi quando in realtà oggi i tassi consentitemi sono quasi normali ma possiamo togliere anche il quasi però il percepito è quello quindi questo crea un contraccolpo un freno un rallentamento anche un po' nella domanda più che un rallentamento un cambiamento della domanda e sicuramente un pochino di sfiducia che a mio modo di 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 vedere verrà però eh come dire assorbito eh quando il mercato eh saprà digerire questa nuova situazione e e secondo me un pochino già già sta avvenendo poi dopo se vogliamo anche andare oltre posto che non non è io a proposito di percezione altri due elementi no ehm come detto Lagarde sicuramente fa degli eh degli annunci che che spostano un po' la percezione sui tassi e eh ultimamente c'è una percezione che eh nel diciamo nel medio va non nel breve probabilmente questi tassi finiranno di crescere e cominceranno di nuovo a scendere ehm almeno così sembra da quello che raccontano no? Eh dall'altra parte ehm rispetto agli anni di cui hai parlato te insomma i primi anni prima prima del duemila intorno al duemila prima quando c'era ancora una lira diciamo prima dell'Europa eh avevamo anche una eh percezione del nostro stipendio che cambiava in funzione del eh tasso di inflazione nazionale e quindi comunque tu ti impegnavi su una rata più grande sapendo che il tuo stipendio cresceva con il crescere dell'inflazione oggi invece abbiamo vissuto oltre a tassi favorevoli anche una stagnazione nella crescita degli stipendi quindi di fatto eh sono rimasti ai primi anni duemila nel nostro modo no? Allora hai hai toccato altri due temi importantissimi vado vado veloce e ti dico un po' le mie considerazioni su entrambi allora sul fatto che nel medio eh forse auspicabile anche nel breve la la presidente della BCE la la signora Lagarde eh smetta diciamo la 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 politica eh monetaria eh di di incremento dei tassi e e e quindi si stabilizzino ehm sono condivido ma anche perché come dire è è è una scelta eh quasi obbligata nel senso che va bene diciamo combattere eh l'inflazione che è poi la la missione della BCE no? E e lo strumento è chiaramente principale se non unico è la politica monetaria quindi intervenire sui tassi quindi inflazione cresce devo aumentare i tassi per riportare giù l'inflazione però se il costo eh che dobbiamo eh subire per per questo obiettivo di portare inflazione al due per cento è quello di andare in recessione non ne vale la pena cioè a quel punto poi c'è da fare una valutazione su quale sia il male minore no? Non il bene ma 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 il migliore dei mali no? E quindi sicuramente eh non possiamo pagare con con la recessione il l'obiettivo di ricondurre un'inflazione al due per cento che ricordo eh nell'ottobre ottobre novembre scorso era l'undici e otto e in quei mesi i tassi sono stati aumentati due volte consecutive di zero settantacinque quindi tantissimo poi sono stati ulteriormente aumentati ma l'inflazione oggi è il sette è il poco più del sette per cento quindi c'è stato un abbassamento dell'inflazione ma non tanto quanto probabilmente ci si aspettasse non tanto quanto negli altri paesi europei no? Questa testimonianza del fatto che probabilmente eh la cura che stiamo dando a questo male non è non è neanche la più adeguata certo qualche effetto lo sta portando ma eh dal momento che l'inflazione ce lo siamo detti eh da sempre anche da prima che salisse e che crescesse la nostra inflazione non è un'inflazione da domanda allora l'inflazione da domanda eh la combatti con con la politica monetaria di incremento dei tassi ma la nostra è un'inflazione più da fattori esogeni no? L'inflazione da da crisi energetica dovuta a sua volta alla guerra piuttosto che anche un po' da da offerta no? Più da carenza di offerta che non da da crescita quindi da aumento della domanda e quindi qualche effetto lo produce l'aumento dei tassi ma non così importante tanto quanto se l'inflazione fosse generata dalla domanda quindi questi motivi eh fanno pensare che eh non si possa continuare con questa politica così così diciamo di di molto aggressiva di incremento dei tassi e la Lagarde nell'ultima occasione nell'ultimo incontro quando ha incrementato ulteriormente i tassi di di 50 punti base eh per la prima volta non ha fatto dichiarazioni sull'avvenire no? Mentre nelle altre occasioni eh metteva già le mani avanti, metteva già in guardia ai mercati dicendo non sarà l'ultimo aumento questa volta non ha detto niente che non vuol dire che non ci sarà un aumento ma comunque sta già facendo capire che forse siamo nella nella diciamo nella curva no di 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 non di discesa ma quantomeno di di stabilizzazione o di incrementi più diluiti e modesti ecco questo è quello che c'è da sperare. In questo contesto no? In Italia che è passata da eh è passata da essere tutti allenatori a tutti i virologi adesso tutti economisti eh quanto a può frenare eh la domanda di mutui l'idea di dire oggi mi impegno ma domani i tassi scendono magari aspetto come si diceva è come sto sto come quando si gioca a carte. Esatto. Eh sì allora come dicevamo in apertura eh la fiducia alla fine poi eh diciamo è è quello intorno al quale ruotano i meccanismi di domanda e offerta no? E quindi e e sulla fiducia interviene tanto il percepito ma poi interviene anche l'altro elemento che hai che è un pochino più invece economico importante che è quello della eh dei salari no? Che non sono aumentati tanto quanto che una volta c'era un pochino questa questa associazione aumentano i prezzi ma aumentano anche i salari no? Mi ricordo quando eravamo un po' più più piccoli eh a telegiornale mi ricordo si parlava di scala mobile queste cose qua no? Che era un po' tutto un meccanismo tale per cui come dire aumentava aumentava tutto ma aumentava anche il la possibilità poi di 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 acquistare il potere d'acquisto no? Oggi noi sappiamo che scontiamo probabilmente anni di 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 politiche del lavoro eh forse non non troppo come dire eh corrette e e siamo tra i paesi Europa con la crescita salari in assoluto più bassa e quindi sicuramente da noi questo effetto eh di 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 fiducia no? Che che dà un contracolpo alla domanda è anche acuito da questo elemento dei salari che non crescono tanto quanto i prezzi. Di conseguenza un contracolpo sulla domanda è inevitabile però come dico sempre ehm poi dopo l'uomo in generale i mercati la società l'economia tendono poi a riabituarsi al nuovo contesto no? Al nuovo scenario che lo ribadisco non è uno scenario voglio dire al momento e e e son convinto sarà così anche in futuro non è assolutamente uno scenario eh del tutto voglio dire anomalo è uno scenario eh anche abbastanza ordinario perché i tassi sono sempre eh se guardiamo le serie storiche sono sono assolutamente in linea se non addirittura più bassi di di momenti nei quali si vendeva tanto e si facevano tante operazioni quindi ci sarà questo contracolpo nella domanda c'è lo stiamo registrando ma non non sarà secondo me duraturo e già a mio parere sono fiducioso e ottimista nella seconda parte dell'anno cominceremo a vedere anche dei 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 trend di di risalita anche perché stiamo vivendo ormai momenti eh soprattutto dal dopo pandemia di eh variazioni di mercato che non sono più curve eh no eh o o o o o discese morbide ma ci sono più delle delle degli spigoli no? Quindi si scende tante volte verticalmente ma si risale altrettanto verticalmente cioè si sono molto acuiti gli angoli no? Quindi eh io sono molto confidente che sicuramente sarà un anno un pochino di 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 fatica dove ci sarà da avere un po' di di fiato corto perché c'è da fare una corsa un po' un po' in salita e quindi le le gambe faranno male e faremo fatica a respirare però secondo me non 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 sarà una 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 salita di quelle che non ti accoggi che durano tanto no? Ma resta una salita un pochino più importante perché vieni da anni di discesa dove stavi particolarmente dove era tutto un po' più più semplice da un certo punto di vista da un altro no e però secondo me eh ci sarà un assestamento nei prossimi mesi e una ripresa eh sicuramente a partire dal duemilaventiquattro. In questo contesto ehm eh diciamo la la l'attività eh del consulente per inizio è già cambiata tanto no negli ultimi anni eh in questo contesto particolare si necessita di un ulteriore cambiamento eh e se sì in che modo dovrà cambiare secondo te la consulenza? Ma allora sì è inevitabile il cambiamento deve essere continuo e tanto più lo deve essere in momenti in cui ci sono degli scenari che cambiano no? Quindi anche un momento di grande opportunità e di grande e di grande anche crescita no? Professionale eh sono i momenti nei quali si si accumulano diciamo dei bagagli di esperienza che poi ti porti e puoi capitalizzare in futuro. Indubbiamente le consulenze che facciamo oggi non possono essere quelle di un anno fa perché ci troviamo di fronte a a situazioni completamente diversi tante volte anche a richieste e eh e anche interlocutori diversi no? Eh comunque situazioni come queste eh dove i filtri si stringono fanno sì che persone che magari cercavano di comprare casa un anno fa oggi eh devono accantonare per qualche mese no? Quel quell'ipotesi perché il rapporto rata reddito quello è i prezzi e le case da un certo punto vista fortunatamente non scendono e e di conseguenza eh chi un anno fa con i tassi a zero o negativi poteva permettersi di comprare casa oggi eh non ci arriva più. Allora se questo delta non è eccessivo e e se il consulente è preparato e quindi qui vengo anche no alla crescita professionale a come cambia la consulenza puoi colmare quel gap quella differenza con altri strumenti di fine di finanziamento magari a breve termine no? Come il prestito, la cessione del quinto e laddove invece non il gap è troppo è troppo alto e rischi di indebitare troppo la famiglia e metterla in difficoltà devi anche aver la forza di consigliare alla famiglia di aspettare magari qualche mese no? ed è quello che ad esempio noi stiamo facendo quindi come sta cambiando la nostra consulenza intanto stiamo guardando anche e sempre più la diversificazione quindi stiamo imparando a utilizzare tutti gli strumenti che abbiamo come dico io nella 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 valigetta o forse oggi meglio sul tablet ok quindi non più soltanto il mutuo ma anche tutto il resto. Stiamo guardando anche a tutte le opportunità tutte le frecce che abbiamo nella faretra quindi non sempre e solo le solite banche alle quali siamo abituati che vanno benissimo e che saranno sempre diciamo gli attori principali e principi del mercato però ci sono tante volte anche situazioni magari di zona in zona e di momento in momento che possono dare delle opportunità che magari con altri con altri prodotti non riesci a cogliere quindi guardare tutta la gamma di offerta che abbiamo di prodotto ma anche diciamo di singolo intermediario di operatore e avere anche la forza e il coraggio di investire nella relazione con la famiglia o con l'impresa dicendo non adesso ma prepariamoci per magari fare l'acquisto tra sei mesi o tra un anno e nel frattempo iniziamo magari a fare anche un percorso insieme quindi una vera e propria consulenza to cure quindi questo credo che sia un pochino il 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 momento e come noi lo stiamo interpretando così e ti devo dire ci sta dando anche risultati perché a dispetto di un mercato che 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 sta che sta segnando come dire un po' il passo in senso negativo perché sta facendo meno e noi stiamo crescendo noi stiamo crescendo non solo perché abbiamo aumentato il numero di di agenti perché siamo comunque con un saldo sempre attivo abbiamo inserito 44 persone dall'inizio dell'anno ci sono altre 50 in ingresso e c'è stato un po' di turnover circa 20 25 persone quindi comunque il saldo è più che attivo quindi questo fa sì che l'azienda cresca però sto vedendo i dati crescono tanto anche i singoli non è non è vero che in un mercato che che va male tu non puoi crescere quindi quindi noi stiamo sfatando un po' questa questa cosa noi insomma e confido non solo noi ma anche 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 altri perché più 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 tutti andiamo bene meglio è certo ma oltre a crescere i volumi e il fatturato immagino che in questo periodo cresceranno anche un po' le lamentele da parte della rete no? eh sulle problematiche che riscontrano e quant'altro quali sono oggi le problematiche che eh ti senti più spesso eh tirar fuori dai collaboratori e eh se ha queste problematiche avete dato poi seguito con eh delle attività per migliorarle insomma sì allora sicuramente la rete eh in questo momento più che mai ha bisogno di sentire la vicinanza dell'azienda no? Cioè quando le cose vanno bene tutti si sentono forti, autonomi e in grado come dire di navigare anche da soli no? Quando il mare è calmo. quando il mare si fa un po' più agitato eh è importante sapere che sei su 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 una nave eh che ti può portare in porto quindi solida resistente che sa dove andare e e e il timone magari è affidato come dire a a chi ha un pochino di esperienza o quantomeno persone di cui di cui hai fiducia no? quindi c'è da far sentire questo oggi alla rete c'è da far sentire che l'azienda è disposta e continua ad investire anche in momenti come questo anche in momenti nei quali colossi mondiali stanno mandando a casa eh migliaia di 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 dipendenti perché abbiamo letto tutti no? Quello che succede magari in Amazon o anche in altre aziende importantissime Microsoft mi ricordo in inizio dell'anno ma anche anche Facebook ma anche nelle banche no? Anche nelle stesse banche anche sono stati tante tanti 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 tagli ecco noi stiamo continuando invece anche ad inserire personale per dare più supporto e assistenza all'azienda noi stiamo investendo nella rete anche in questo momento no? Dove paradossalmente uno può pensare che è un momento nel quale magari stai un attimo eh fermo eh e attento a quello che succede no? In realtà eh c'è da c'è da far capire alla rete che che ci siamo e stiamo continuando ad investire programmando già il futuro e prevedendo ulteriori ulteriori crescite ulteriori eh strumenti anche innovativi noi stiamo investendo tantissimo nel web quindi stiamo aumentando la la quantità e la qualità eh però entrando proprio nello specifico nel concreto ti abbiamo telefonato da un collaboratore ciao Stefano senti eh che ti aspetti eh che ti aspetti eh che ti aspetti eh mi servono più banche di quelle sì certo certo mi servono più lead mi serve esatto esatto è toccato già due temi fondamentali no? Allora eh mi servono più banche perché magari prima incontravo dieci persone e ne chiudevo sei o sette presentavo sei o sette pratiche perché ci stavano tutte nel rapporto data reddito oggi magari riesco a fare più o meno la metà ok quindi cosa posso fare? Beh intanto anziché incontrarne dieci incontrano i venti e per incontrarne i venti cosa cosa dobbiamo fare? dobbiamo magari aumentare il il rapporto con con i dealer no? E quindi noi stiamo investendo tanto nella relazione con le agenzie immobiliari attraverso la nostra piattaforma affidare punto casa dove stiamo veramente crescendo tantissimo oggi sono più di 600 agenzie con il nostro portale immobiliare vivo qui dove ci sono 4.600 agenzie abbiamo lanciato un contest per le agenzie che ci consentono di fare degli appuntamenti quindi stiamo investendo stiamo 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 offrendo delle opportunità alle agenzie assorbendo noi magari i costi di scontistiche che giriamo su di loro rispetto magari a dei fornitori ai quali le agenzie accedendo da soli per avere quei servizi pagherebbero tanto di più quei costi li stiamo assorbendo noi quindi stiamo investendo per consentire alla rete di aumentare il numero di consulenze perché se la percentuale di chiusure sulle consulenze si riduce a causa degli effetti che abbiamo descritto in questa mezz'ora il primo passo da fare è aumentare il numero delle consulenze uno due intervenire poi anche come giustamente ha osservato sulla qualità e quindi sulla diversificazione mi servono più lead quindi non solo immobiliare ma anche web stiamo investendo tanto anche lì da quando c'è stato l'ingresso del fondo no proprietario della piattaforma Compara Semplice abbiamo abbiamo fatto tantissimo con loro oggi su Compara Semplice ci sono tutti i nostri preventivatori Compara Semplice insomma fa girare circa 5 milioni di visitatori al mese sulle proprie piattaforme e questo fa sì che in tanti oggi vedano anche l'offerta finanziaria no? Mutui cessioni del quinto prestiti quindi abbiamo investito abbiamo assunto circa una decina di persone nel nostro contact center l'abbiamo formato tutti iscritti home che fanno un'attività di filtro importantissimo quindi non arriva più il lead alla nostra rete ma arriva un vero e proprio prospect cioè quasi una pratica perché arriva già con un filtro importante una consulenza fatta a monte telefonicamente tante volte anche video dai nostri consulenti iscritti home ma che fanno la consulenza al telefono quindi ecco stiamo intervenendo in questo senso aumentando la quantità come come ti ho detto ma anche la qualità attraverso la diversificazione poi anche attraverso una diversificazione ancora più spinta perché poi insomma noi all'interno del gruppo come da sempre tra l'altro abbiamo fatto non ci occupiamo solo di strumenti finanziari ma ci occupiamo anche di non solo di strumenti creditizi per essere più precisi quindi non solo mutui presti e gestioni ma anche ovviamente di polizze e anche di noleggio a lungo termine con un'azienda del gruppo ma anche di consulenza di consulenza di consulenza di consulenza di consulenza di altri servizi di consulenza no quindi ecco noi ci siamo inizio anno abbiamo fatto un un altro intervista in quel caso era scritta e tu ci hai raccontato che i tre driver per quest'anno dovevano essere l'immobiliare che ce lo siamo detto lo sviluppo digitale e ce lo stiamo raccontando ma in realtà c'è un terzo settore che è molto importante che è quello delle imprese che ci raccontano esatto stavo giusto introducendo no stavo giusto introducendo quindi siamo in perfetta sintonia grazie flavio assolutamente quello che è il terzo pilastro quindi è assolutamente confermata la strategia che descrivevo inizio anno in quell'articolo che hai ricordato e la stiamo mettendo in atto l'abbiamo allestito da inizio anno anche la business unit leasing che ci sta dando delle soddisfazioni enormi e come anche conferme importanti stanno arrivando invece dalla relazione con le fintech per tutto quello che sono i diciamo quello che è il credito ordinario alle imprese quindi stiamo crescendo tanto sul fronte della consulenza alle aziende ma anche dell'intermediazione creditizia vera e propria alle aziende quindi un elemento che ci fa crescere tanto rispetto allo scorso anno perché lo scorso anno chiaramente nel bilancio questa unità di business ha inciso pochissimo perché era in pieno start up e di conseguenza tutto quello che facciamo quest'anno è un segno più che si aggiunge quindi magari ci aiuta anche a compensare dell'impasse che potremmo registrare magari sui mercati principali come dicevamo all'inizio quindi questo è sicuramente un elemento importantissimo un altro fattore sul quale stiamo investendo molto come anche nella relazione con le banche perché prima è parlato di nuove convenzioni noi da inizio anno ne abbiamo siglate ben sette e stiamo parlando di tre mesi no quindi e sono trasversali a tutti i comparti sia per quanto riguarda mutui e privati sia per quanto riguarda cessioni del quinto dove tra l'altro stiamo facendo anche delle attività di M&A importanti e anche per quanto riguarda ovviamente il mondo imprese e leasing sulle sessioni del quinto in particolare stanno entrando gruppi importanti con noi coinvolti diciamo dal nostro progetto e dal nostro modello grazie a un'attività di recruiting abbastanza importante che stiamo facendo con i ragazzi che seguono il comparto che ricorderai sono entrati con noi fin dall'inizio dalla Sicilia l'ultima cosa però ti chiedo veramente un flash tornando al discorso mutui ma hai riscontrato un cambiamento negli appetiti delle banche a erogare in senso positivo o negativo in questo periodo oppure più o meno stabile? ma allora mediamente stabile poi chiaramente ogni banca ha un po' i suoi momenti le sue politiche però tendenzialmente insomma le banche più più importanti no e quando parlo delle banche più importanti mi divisco a quelle più importanti per il mondo della mediazione creditizia no che poi tante volte coincidono anche con le più importanti a diciamo a livello nazionale comunque quelle 4-5 banche ci sono ci sono sempre ci sono sempre state viva Dio e ci sono anche in questo momento ci stanno supportando quindi poi ti ripeto poi magari non sono tutte sempre come dire pronte nello stesso momento magari qualcuna si prende qualche qualche mese in più per uscire con qualche soluzione adeguata al momento al contesto ma non ci abbandonano mai devo essere onesto questo per noi è importante perché avere come dire una solidità di rapporti non è poter contare su una vera e propria relazione più che una convenzione fa la differenza e lo fa soprattutto in questi momenti quando fai impresa devi devi programmare e pianificare a lungo termine non soltanto a breve e medio e quindi è fondamentale per quello avere dei partner che ti accompagnino negli anni e questo grazie a Dio lo stiamo riscontrando con queste banche bene benissimo allora Stefano io ti ringrazio di questa chiacchierata come sempre interessante ti saluto chiaramente al prossimo appuntamento magari affronteremo dei temi magari anche più intensi ma anziani sotto qualche modo speriamo senza altro grazie grazie a voi grazie Flavio grazie a tutti ciao grazie ciao ciao ciao